Raga, non ci posso credere a quello che sto vedendo, ma veramente, è una cosa fighissima Ciao a tutti piccoli clienti e bentornati sul mio canale Oggi, come sapete, è uscito un nuovo aggiornamento su Adopt Me che oggi andremo proprio a vedere Questo nuovo aggiornamento, infatti, ci sarà una cosa fighissima Allora, innanzitutto partiamo da una cosa bellissima che io potrò sicuramente comprare Se noi andiamo nelle case e andiamo a cambio a casa Abbiamo questa, che è nuova Se voi avete tantissimi bucks, la potete comprare perché costa 2250 bucks Sono super contenta perché non vedo l'ora, chissà com'è dentro Allora, non ha nemmeno una porta, secondo me, perciò il portale si chiuderà Ed ora andiamo per forza a vedere 3, 2, 1, costruisci Oh, calma Ok No, i miei soldi mi sono andati Oh, mio Dio Quanto Oh, mamma mia, ma è bellissimo Allora, tipo, cioè, cioè, allora, raga, mi ha lasciato senza parole Cioè, ma vedete voi, vedete voi Ma si può entrare anche da dietro Dopo ci proviamo Cioè, le palme con il cocco Cioè, sembra, sembra tipo il deserto In una roccia Dentro è una roccia, delle rocce A forma di quadrato Con delle palme e con dei cocchi Adesso andiamo a vedere, perché sono super, super, super entusiasta 3, 2, 1 Woohoo No, vabbè Che L'acqua dentro ad una casa Come capere è possibile Cavoletti di Bruxelles Devo arredarla sicuramente Ma qua dentro si possono mettere, tipo, la barca, no? La barca che abbiamo comprato sull'aggiornamento del deserto Dov'è? Dov'è la mia barca? Oh, eccola No, vabbè Si può mettere Nooo Ma è fighissimo Poi qua, ragazzi C'è anche più spazio Perciò Questa barca può andare in giro Per la casa, no? Andiamo a fare un po' di tour Perché sono super, super contenta Perché finalmente possiamo mettere la barca Da una parte di Adotmi Perché come sapete Il laghetto, il centro di Adotmi è piccolissimo E di là non si può guidare la barca ovunque E pure il polto E per andare su No, adesso ci andiamo su Adesso andiamo su No C'è Ok Oh mio Dio Che bello C'è proprio un'isola, ragazzi Un'isola Un'isola C'è bellissima questa isola Guardate, c'è pure la cascata Nooo Vabbè Si può andare qua sopra Ok, perfetto Chissà se là dietro c'è un segreto Perché sono così tanto fissata con i segreti? Vabbò, dopo ci andiamo, eh Dopo ci andiamo Ma ora andiamo avanti Qua bellissimo Ma è stragrande questa casa Cioè, come si fa a ridare una cosa così bella? Poi qua c'è una strada Madonna No, ma qua io mi dirò un posto bellissimo Allora Ho visto una cosa però là Cos'è? Per andare giù? Un po' più veloce Ma se non possiamo mettere la barca? Si possono mettere anche delle macchine? Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Si possono mettere delle macchine dentro qua Dentro casa finalmente Cioè, perché questa roba è proprio una giungla Aiuto, sono caduta Si possono mettere tantissime cose qua dentro E chissà Adesso guardiamo se ci sono nuove arredamenti, eh Allora, andiamo Ora vediamo se ci sono dei nuovi mobili Ehm Qua vediamo Island House Ecco Madù No, vabbè Ma poi come vedete ragazzi Questi, cioè, ce li abbiamo già E quindi, cioè, abbiamo quasi tutto mezzo arredato Però si possono togliere questi hub Possiamo mettere anche dei nostri pet fly Chissà, ora proviamo Poi mettiamo dei pet fly Mettiamo questo pet, no? Tanto, l'abbiamo già fatto fly a ride Perciò, facciamo fly Mamma mia, si può! Guardate raga C'è, c'è, c'è un panorama Di una figata Qua c'è tutto il mare Andiamo un po' più in su con il nostro pet, no? Così Andiamo con meno fatica E spartiamo meno tempo Ok Andiamo, 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 andiamo Ok Ops Siamo andati un po' troppo su Ora ride Cavalca Aiuto Guardate! Poi adesso è tipo un'altra isola, sapete? C'è tipo sabbia Vabbè, non importa Qua si vede tutto ragazzi Proviamo ad andare un po' più su Dove c'è la cascata magari Qua Se noi andiamo un po' più su Aiuto! Ok Ora fly Aiuto Ok Questa ride è fly, madonna Ok Ci siamo Stop Guardate! Oh Mamma mia Ah no, la cascata è da quella parte Vabbè, dopo ci toffiamo da là Poi Ma guardate raga C'è tipo là Il villaggio di Adoptmi, no? C'è bellissimo No, bellissimo Poi andiamo a vedere un'altra cosa Anzi Andiamo a vederla anche adesso Ma prima voglio provare una cosa Prima voglio provare una cosa Andiamo dove c'è la cascata Perché Io dalla cascata vorrei Ehm, come dire Buttarmi Voglio toffarmi Voglio toffarmi nel laghetto Guardate che bello Guardate che bello Ma qua peccato che non si possono sedere Perché se no c'era una cosa Fighissima C'è sì che era un romantico Poi Prendiamo qualcosina da qua Vediamo se c'è qualcosa in cui ci possiamo sedere Magari E magari Questo Questo Per i pezzi Ah no Per i pezzi E dai Volevo qualcosa Per sedermi C'è raga Una bella vita Abbiamo qua Una bella vita Con una vita così Con un tavolo E un divano così In mezzo A un tipo Un'isola bellissima Poi raga Dato che abbiamo Una isola gigantesca Possiamo fare il giro Con una barca Tipo questa Come abbiamo fatto prima No? Bellissima Ora usciamo da quest'isola Perché c'è anche una cosa Fighissima Oltre a questa Allora Allora Che fa parte sempre Del nuovo aggiornamento Perciò Usciamo dall'isola Un portale bellissimo Cioè Esci da casa Ma in realtà È un'isola Che casa Ok Allora Qua abbiamo sempre Quelli stessi Buongiorno Ed ora Andiamo nel negozio Eh Ci sono i taxi Allora Costano 350 Robux Raga Guardate Ci ne sono Due E infatti Questi due taxi Li potete comprare In 350 Robux Oh mio Dio Cioè Già due taxi No vabbè Allora Proviamo già con questo nero È leggendario Se ho letto bene Oh Mamma mia Ma è bellissimo Ma qua C'è la zampa Di un pet No vediamo Cioè Sembra velocissima Anzi Lo è Infatti Ma che bello Ma che bello Ok Ora Ritorniamo davanti A casa mia Cioè Davanti Alla mia Isola Ed ora Falcheggiamo Bene E andiamo E andiamo con l'altro taxi Yellow taxi Leggendario E anche pure questo No vabbè Questo anche È più grande Ma questa Sì che è bella Ora andiamo Andiamo qua E usciamo Guardate ragazzi Che bellezza Infatti raga Con questo voi Potrete avere dei wax Perché Perché inoltre tutto Perché Quando voi portate Una persona Un vostro amico Da una parte Di ad hoc Insieme al vostro taxi Voi guadagnate dei bucks Nel posto In cui lui Vorrebbe andare No Tipo qua Una mia amica Tipo Mary E vuole andare Al centro E io la porto al centro E io guadagno Dei robux Dei Dei bucks Qua c'è scritto Options Perché In vostra prezzo Oh Ecco qua Vedete Vedete Come funziona qua Vediamo su Options Imposta prezzo Magari Il prezzo Può essere No Ha detto che Il limite È 20 bucks Perciò Mettiamo 20 bucks E il limite È 20 bucks Vedete Abbiamo messo 20 bucks Se proviamo Con Avete visto ragazzi Come funziona Potete mettere Anche a un bucks Sapete Così se portate A centinaia di persone Avrete Avete centinaia di bucks No Eh Ok Ora raga Vado a guadagnare Un po' di soldi Dando Delle passeggiate Insieme A dei clienti Che devono andare Da qualsiasi parte Infatti Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Mettete like A questo video Se vi è piaciuto E cliccate la campanellina E noi Ci vediamo La prossima Con una nuovissima avventura Siete meravigliosi Ciao Muah Siete meravigliosi Siete meravigliosi Siete meravigliosi